Lo avrebbe fatto per vendetta. Il presunto responsabile del tentato omicidio di Nicola Liguori, l'uomo di fratta maggiore cosparso di benzina e poi dato alle fiamme nella notte tra giovedì e venerdì scorso, mentre era in videochiamata con la fidanzata, lo avrebbe fatto perché riteneva Liguori responsabile della sparizione di un suo vecchio scooter. Pasquale Pezzella, 36 anni, l'autore del tentato omicidio, residente nel quartiere delle case popolari dove si è consumato il dramma che farebbe consumo di droga, è stato rintracciato dagli agenti presso l'abitazione del padre, poco distante dal luogo dove è avvenuto il tentato omicidio. Nicola Liguori è in coma farmacologico e in pericolo di vita al centro grandi ustionati del Policlinico di Bari. Se Nicola non è morto è perché le sue urla hanno attirato l'attenzione di un uomo che si è catapultato dalla sua abitazione con una coperta e gliela ha buttata addosso. Il fratello di Nicola, Biaggio, ha accompagnato l'uomo al pronto soccorso di fratta maggiore immediatamente. Nonostante il forte dolore, Nicola Liguori ha avuto la forza e la lucidità di indicare in Pasquale Pezzella e in un suo amico quelli che lo avevano cosparso di benzina e poi avevano appiccato il fuoco con un accendino spiegando anche il motivo di quel terribile gesto. Prima delle fiamme c'era stato un battibecco con il presunto responsabile del tentato omicidio. Questi, che abita in uno degli edifici che danno sulla cappella della Madonna dove è ubicata la panchina sulla quale sedeva la vittima, mentre parlava in videochiamata con la fidanzata sentendo la voce di Nicola, si era affacciato alla finestra. Egli avrebbe intimato di stare zitto perché disturbava. La vittima ha raccontato al fratello che mentre conversava con la fidanzata dopo quell'alterco all'improvviso è stato investito dalla benzina.